Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questo nuovissimo video dedicato questa volta ad un emblema esclusivo introdotto giusto ieri prima che iniziasse la festa delle anime perdute e che non è ancora ben chiaro se potrà essere ottenuto esclusivamente durante questo evento. In ogni caso l'emblema in questione è Rianimatore, quello che vedete a schermo in questo momento ed esattamente come per altri emblemi come ad esempio quello della Bungie Foundation piuttosto che quello del Tricorn potrà essere ottenuto effettuando degli acquisti nello store della Bungie. In particolare saranno ben 5 gli oggetti che una volta acquistati daranno anche un codice per questo emblema, trovate direttamente il link della pagina del negozio in descrizione. Al momento però mentre sto preparando questo video gli oggetti meno costosi sono già esauriti quindi vi consiglierei di aspettare almeno la settimana prossima e vedere se ritorneranno disponibili. In ogni caso gli oggetti che trovate in questa pagina, ricordo link in descrizione, saranno quelli che una volta acquistati vi consentiranno di ricevere una mail contenente il codice dell'emblema in questione e questo sarà l'unico modo per ottenerlo. Dunque ragazzi per quanto riguarda il come ottenere l'emblema Rianimatore è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, iscrivervi se non l'aveste ancora fatto, condividere questo video con tutti i vostri amici appassionati di Destiny e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!